Sì, abbiamo atteso, anche perché comunque sono nomine che devono essere comunque confermate a livello centrale, a livello romano, ma sono nomine che hanno una ricaduta sul territorio favorevole, quindi sono momenti importanti per l'ente, per la centralità dell'ente e quindi vengono riconosciuti all'ente anche queste capacità di coordinamento e comunque di approfondimento di quelle che sono le tematiche anche di discriminazione. Io sono avvocata da circa 25 anni, lavoro a Torino, sono di Torino, sono nata a Torino, Torino è la mia città. Mi occupo di questi temi da molti anni e credo che sia il tempo per me il tempo di restituire qualche cosa alla città. Credo che questo compito, questo ruolo possa cambiare qualche cosa in questo mondo fatto ancora di discriminazioni, di mancanza di parità. Io credo molto in questo ruolo e il motivo per cui ho deciso di candidarmi è da un lato continuare ad occuparmi di questi temi da un punto di vista differente rispetto a quello della mia professione. Kennedy diceva non domandarti che cosa lo Stato può fare per te e domandati cosa tu puoi fare per lo Stato. Il Covid ha sicuramente portato, ha fatto emergere insomma delle problematiche che insomma già stavano nel nostro Paese prima della pandemia. Si tratterà di lavorare sui temi delle disuguaglianze e delle discriminazioni perché io credo che questo Paese possa ripartire finalmente soltanto eliminando le discriminazioni e le disuguaglianze. Continuerò il lavoro prezioso che è stato svolto da chi mi ha preceduto. Ci sono già in campo molte iniziative e quindi quelle sicuramente verranno proseguite, le collaborazioni che già esistono e dopodiché insomma abbiamo anche una supplente più giovane di me che sicuramente con lei riusciremo a mettere in campo qualche idea che già ci è venuta e che insomma dovremmo sviluppare nei prossimi anni. Grazie per la visione! Grazie! Grazie!